Ma che è successo ieri? Che è successo? Abbiamo visto tutti che una partita quasi vinta all'ultimo minuto e l'abbiamo ancora pareggiata. E purtroppo siamo tutti adesso incazzati con noi stessi perché la partita si doveva chiudere prima. Non l'abbiamo fatto e purtroppo così abbiamo fatto solo alla fine un punto. E' giusto che i tifosi sono incazzati, è triste per i due punti persi per questi ultimi finali che abbiamo ancora. Ma quindi dobbiamo lavorare e guardare avanti, non possiamo fare altro. Ti farebbe piacere, mettiamola così, restare ad Avellino in bianco verde anche in futuro? Io e mia famiglia, mia moglie e la nostra bimba siamo bene qua, quindi si deve parlare per il futuro. Io ovviamente ho solo un mese ancora, perché un mese finisce, un mese e mezzo, con i play-off si finisce il campionato. Certo, quando andiamo in bici ho ancora il contratto, ma fino a lì sta tutto nelle stelle. Quindi io devo pensare anche al nostro futuro e della mia famiglia. Ovviamente le altre squadre sanno anche che ho un mese il contratto quando Avellino non sale. Io sono qua, sto bene qua, siamo vicino casa, devono venire da me a parlare, si mette al tavolo e si vede cosa si può fare. Io sto bene qua, quindi vediamo che succede nel futuro. Devi vincere molto di più a casa, cioè a casa deve essere normale la tua forza, no? Dove ti prendi la fiducia per andare dopo fuori casa per vincere lì qualcosa in extra. Sì, mancano vittorie a casa. Ho visto anche le parecce che abbiamo fatto. Quanti parecce abbiamo fatto? 13? In totale? 14, sono tanti, meglio che perdi altri 5 partite in più, ma altri 5 in più vinci, cioè fai di più punti alla fine. Io non penso a loro, io penso al nostro gioco e quindi noi dobbiamo fare solo la nostra partita. E come ha detto lui prima, che tu devi andare uguale contro chi giochi, che devi fare la tua partita per bene. Non pensare che già hai vinto o giochi contro loro, hai vinto. Cioè ogni partita inizia da 0-0 e finisce dopo 100 minuti. Quindi noi dobbiamo fare la nostra partita come si deve a 100 minuti per vincere la partita. A me non mi interessa tanto di loro come hanno giocato adesso tre giorni fa, hanno fatto una figura di merda. Va bene, ci sta, facciamo tutti una volta, no? Ma di nuovo, quando vengono adesso qua, vogliono vincere la partita qua, non è che vengono qua solo per venire. La partita inizia da 0-0 e loro vogliono venire qua a fare punti. E quindi noi dobbiamo andare contro di loro e dobbiamo fare la nostra partita. Hai qualcosa da dire a Giorgio? No, grazie per queste parole. Ovviamente do il massimo, ma in primis per me. Perché è il mio lavoro e divento pagato per quello e quindi devo fare il massimo per quello che devo fare. Quindi mi fa piacere sentire queste parole e grazie.